No, l'ho rotto. Arriva fra un po', noni. Arrivo fra un po'. Allora, Ouroboros per ancora malvagio ragionando bellissimo a gold. Il termine dell'avviso bruciante numero 35 tarando la famelica e Cosmo spada laser. Bellissimo numero 35. Ragazzi, tutte gold. Stupende. Bellissime. Stupendo, come sbustino. 35 se non sbaglio l'hanno stampata solo in questa edizione. Adesso sbustiamo la seconda busta. Cerchiamo di non sbustirla bene. Non so smentarla. Ok, questa l'ho aperta relativamente bene. Dunque, hanno 5 anni adesso questa. Ok ragazzi. Costellazione Ptolemy. M7. Drago, fortezza, chimera, tec gold. Bellissima. Poi, Dante. Dante gold. Dante, viaggiatore dell'avviso bruciante. Si capiva da questa che ci sono meglio. L'avviso bruciante. Però bellissima. Poi, spada della speranza brillante. E l'ultima. Beatrice. Buco, trappolo, spazio temporale. Super sbusting di un'espansione del 2016. Abbiamo trovato Dante. Stupenda come carta. Tolemy, costella, livello 7. Bellissimo. Tutte carte stupende. Veramente bellissime. Tutte carte stupende.